Il sistema carcerario in Abruzzo, come nel resto del paese, vive una stagione di grandi difficoltà. Il tasso effettivo di affollamento nelle otto case circondariali abruzzesi ha sottolineato stamani il garante dei detenuti Cifaldi dal 112% e salito al 119%. A fronte di 1.700 posti disponibili nelle carceri abruzzesi, attualmente sono reclusi oltre 1.900 detenuti. Dottor Cifaldi, da questo convegno può partire anche una riflessione sullo stato delle case circondariali abruzzesi, i soliti problemi, carenza di personale e spazi molto ristretti? Certo, qui faremo il punto della situazione del sistema penitenziario nazionale italiano e abruzzese, con particolare riferimento ai nostri problemi, che sono comuni purtroppo a tutta la realtà nazionale. Una situazione difficile, ha aggiunto ancora il garante, il quale ha sottolineato come l'ambiente carcerario stesso spesso può generare e aggravare i problemi esistenti delle persone detenute, specialmente quelle con i bisogni di assistenza sanitaria e fragilità mentale. Non è più sufficiente denunciare il sovrappollamento e la carenza di personale, c'è la necessità di azioni concrete e serie di politiche mirate a cambiare la situazione esistente. Sono troppi i suicidi dei detenuti registrati nel corso di quest'anno, ha aggiunto ancora il garante. È inaccettabile che l'anno scorso siamo arrivati ben a 85 decessi volontari e quest'anno ad oggi sono già 64. È un dato purtroppo non positivo che fa percepire il malessere all'interno delle strutture penitenziarie. Cifaldi ha posto infine l'accento sull'accorpamento di Abruzzo e Molise all'Umbria per la creazione di un nuovo provveditorato dell'amministrazione penitenziaria con sede proprio a Perugia, una scelta che penalizza enormemente la nostra regione, ha sottolineato il garante, ricordando però che è solo un'ipotesi tecnica trasmessa ai sindacati per le osservazioni dal Ministero della Giustizia. Ci sarà modo di attuare un tavolo di confronto anche con le regioni interessate. L'attuale provveditorato comprende Lazio, Abruzzo e Molise, mentre l'Umbria è aggregata alla Toscana. Perugia è troppo lontana, ha aggiunto infine il garante, non garantirebbe infatti funzionalità, razionalità ed economicità.